Un altro episodio che è accaduto ieri sera, una badante mentre rincasava a Casa Leone è stata aggredita anche in questo caso da due individui. I carabinieri hanno arrestato uno dei due, è un pregiudicato marocchino. Una rapina fallita e un arresto che potrebbe essere un tassello fondamentale per sgominare la banda che nelle ultime settimane sta mettendo a segno furti e rapine nella bassa veronese e padovana. Ieri, intorno a mezzanotte, una badante rumena, mentre stava rincasando a Casa Leone, è stata aggredita da due malviventi per rubarle la borsetta. Alle sue resistenze i due hanno cominciato a colpirla con un bastone. Svegliato dalle urla, il marito, pure lui rumeno, è uscito per difenderla ingaggiando una colluttazione con i due aggressori. Nel frattempo la donna ha digitato il 112, in zona per un servizio specifico conseguente alle ultime rapine c'erano ben quattro pattuglie dei carabinieri. Immediato l'intervento dei militari, che hanno seguito uno dei due rapinatori arrestandolo, si tratta di un marocchino di 27 anni, irregolare, senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali. È stato condotto nel carcere di Montorio in attesa della convalida. La donna è stata accompagnata al pronto soccorso di Legnago, dove i medici le hanno dato una prognosi di 10 giorni. Continuano intanto le ricerche del secondo complice della rapina da parte dei carabinieri di Cerea e del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Legnago.